Ciao ragazzi, oggi sono al Pillowback Park a provare un nuovo sistema di telemetria che si chiama BYB Telemetry e questo sistema ha praticamente tutto quello che ci serve per analizzare le nostre sospensioni e come si comporta la bici infatti grazie alla scatola di acquisizione possiamo collegare un sensore della forcella, un sensore dell'ammortizzatore i due sensori del freno davanti e del freno dietro un sensore di velocità che ci permette anche di fare delle comparative tra una run e l'altra e di monitorare comunque la velocità in aggiunta abbiamo anche il GPS per questo e poi all'interno della scatola di acquisizione abbiamo un giroscopio e un accelerometro entrambe a tre assi la cosa che mi ha colpito di più di questo sistema è stata la facilità di utilizzo e di montaggio soprattutto come potete vedere montarlo è stato veramente facile, con un paio di fascette i sensori stanno perfettamente in asse e non si muovono di un millimetro il tutto sembra molto molto solido ora il sistema è montato sulla mia NUC Proof Descent però i ragazzi mi hanno garantito che esistono supporti di ogni tipo sia in plastica che in CNC quindi si può adattare a qualsiasi tipo di bici, a qualsiasi tipo di sospensione che sia monopiastra, doppia piastra, ammortizzatore ad aria o a molla quindi davvero davvero molto universale come sistema come potete vedere il sensore è perfettamente in asse con lo stelo e lavora di pari passo senza ostruire nessun tipo di funzionamento della forcella la scatola di acquisizione presenta 5 connettori molto molto solidi e facilissimi da installare per accendere ci basta schiacciare una volta questo tasto e aspettare che il secondo led verde diventi fisso e ciò significa che anche il GPS è pronto ad acquisire una volta che tutti e due i led sono verdi fissi possiamo schiacciare una volta questo tasto qua e avviare la nostra discesa tutti i dati vengono acquisiti all'interno di questa scatola e poi c'è la possibilità di scaricarli o sul telefono tramite un'app o direttamente sul computer e analizzarli poi con un programma apposito il tutto avviene via wireless quindi senza cavi e questa scatola di acquisizione è ricaricabile via USB e questa è la scatola di acquisizione Grazie. 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 Ma veniamo un po' alle conclusioni di questo weekend e soprattutto cosa penso io di questo sistema di telemetria. Allora, innanzitutto non abbiamo mai avuto nessun tipo di problemi. Non ho mai riscontrato nessuna anomalia. Ha sempre funzionato a perfezione. Il GPS prendeva in un attimo. mai un dubbio davvero incredibile, mi sono trovato davvero bene ogni discesa avevamo i dati completi della forcella, dell'ammortizzatore, dei freni, del gps davvero tutto, quindi su questo senza dubbio ho un ottimo risultato seconda cosa, mi ha permesso di settare la bici meglio di quanto ce l'avessi prima abbiamo preso anche dei tempi e il miglioramento c'è stato ho lavorato molto sul setup e soprattutto sul bilanciamento tra amortizzatore e forcella un'altra peculiarità è che se si hanno i punti precisi del carro, del vostro sistema ammortizzante si può fare anche un'analisi precisa dell'asse della ruota posteriore, non solo dell'ammortizzatore quindi è un upgrade ancora successivo rispetto agli standard che ero abituato fino adesso quindi abbiamo lavorato su questo bilanciamento e ho trovato un'ottima quadra che mi ha permesso sicuramente di avere un feeling maggiore con la mia bici questi sensori sono davvero incredibili, fatti in alluminio, derivati dalla formula 1 hanno un peso e soprattutto una dimensione veramente ridotta e hanno un carico di attuazione molto molto basso perché esistono dei sensori con un carico di attuazione quindi una forza per farli partire più elevate di diversi chili ma questo ci andrebbe a cambiare totalmente le nostre misure il nostro metodo di misurazione che abbiamo sulla nostra bicicletta quindi questi sono davvero ottimi per quello che dobbiamo fare noi per la mountain bike e si montano su due uniball quindi rimangono sempre in asse e in più sono impermeabili quindi adatti a utilizzarli in qualsiasi condizione anche il cervello di tutto questo l'acquisition unit è davvero incredibile molto molto compatta peso ridotto ha 5 connettori i quali possono essere anche espandibili in un futuro con altri sensori anche questa è impermeabile quindi si può usare in qualsiasi condizione e soprattutto campiona a 1000 Hz questa è una cosa incredibile sono 1000 punti ogni secondo nel nostro sport dove abbiamo breaking bumps e botte veramente veloci ci aiuta davvero avere dei grafici dei dati davvero davvero molto precisi in confronto magari ad altri tipi di telemetrie inoltre è stata completamente studiata per la bicicletta con degli speciali supporti si può montare sul manubrio e grazie all'accelerometro e al giroscopio si possono calcolare anche gli impatti che abbiamo sul manubrio e in più non ci serve nessun componente aggiuntivo quindi questa la montate ed è pronta all'uso connettete i sensori e andate ultime cose beh la batteria dura davvero tanto in questi due giorni non abbiamo mai avuto problemi e necessità di caricarla assolutamente tutto questo kit è comprendente di tutti i sensori forcella, ammortizzatore, freni, giroscopio, accelerometro, gps, velocità il tutto pesa pensate un po' soltanto 500 grammi incredibile ad aiutarmi con tutti questi dati questo weekend c'è Enrico Rodella ovvero l'ideatore di BYB Telemetry ciao ti faccio subito una domanda come mai questa idea, da cosa è nata questa telemetria? allora questa idea è nata circa due anni fa ed è nata principalmente perché volevamo cercare di portare il miglior setup possibile a tutti essendo che le sospensioni sono estremamente importanti per avere una bici che sia anche sicura, divertente eccetera è estremamente importante che siano perfettamente funzionanti e anche funzionali chiaro ok, abbiamo girato tanto questo weekend abbiamo raccolto tantissimi dati ma adesso come facciamo a visualizzarli? ok, per visualizzare tutti questi dati è possibile utilizzare la connettività wireless che è contenita all'interno di questa scatolina semplicemente tenendo premuto il tasto run per 3 secondi attiverà la connessione wireless e potremo scaricarli tramite un'applicazione smartphone o tramite pc e noi utenti cosa visualizzeremo poi? allora, il software è abbastanza semplice dopo che abbiamo scaricato tutte le varie run possiamo aprirle semplicemente da questo menu e automaticamente verranno caricati i dati di travel, di fork travel e di shock travel quindi qua abbiamo la lunghezza della forcella, della corsa e qua la lunghezza della corsa ammazzatore e la dimensione della ruota e anche il diametro ruota che serve per il sensore di velocità tramite questo menu è anche possibile switchare tutti i vari controlli tra percentuali oppure millimetri così come vedere le sospensioni o anche le ruote vediamo innanzitutto da questa prima stack view che abbiamo la fork quindi qua vediamo come si è comportata qual è la posizione della forcella e qualche dato statistico tipo esempio sag dinamico 25.8% e massimo raggiunto a 94.3% ok quindi in quella run è più o meno fatto sui 190 di corsa più o meno totale sì esattamente un 94.3% sui 200 millimetri per quanto riguarda lo shock è lo stesso tipo di grafico che abbiamo appena visto abbiamo il grafico della speed in cui vediamo anche la comparativa tra la velocità gps e la velocità del sensore qua abbiamo l'imo che è l'accelerometro praticamente e indica quali sono gli shock che abbiamo percepito al manubrio tutti questi shock che sono sostanzialmente degli impulsi sono arrivati addirittura a 17g wow incredibile e qua sotto invece abbiamo i freni abbiamo il freno anteriore che è indicato in giallo il freno posteriore che è indicato in rosso e quando i freni vengono azionati entrambi il software cambia il colore in arancio in modo tale che possiamo distinguere tutte le varie zone beh qua non sembra che abbia frenato molto dai no esatto è frenato poco devo dire c'è stato vero che c'è e poi è possibile anche zoomare gli intervalli quindi con un semplice tipo drag and drop in modo tale da poter vedere meglio tutte le varie curve e qua abbiamo il gps con il puntino che si muove esattamente abbiamo il gps con il puntino che si muove e il tratto evidenziato verrà ovviamente evidenziato anche sulla mappa così come sull'altimetria e sulla pendenza che è indicata sul grafico qua a fianco e per quanto riguarda analisi più complesse è consigliabile portarle avanti con la tab chiamata suspension view la suspension view è una tab che può sembrare molto incasinata in cui andiamo a zoomare per esempio l'intervallo di un salto in questo caso andiamo a ripulire un attimo il grafico togliendo le velocità di forcella e di ammortizzatore e flottando solamente le posizioni qua possiamo sovrapporre altre curve come per esempio la gps la velocità gps, la velocità del sensore, l'accelerometro quindi vedere anche gli urti in corrispondenza dei salti, la pendenza quando stiamo frenando con quello anteriore o quando stiamo frenando con quello posteriore o entrambi qui abbiamo tutti i vari massimi e minimi per quanto riguarda la velocità di ammortizzatori e di forcella sia in compressione che in ritorno quindi per esempio se abbiamo un ritorno troppo veloce qua possiamo avere un numero spropositato esatto, se ne possiamo accorgere per esempio qua possiamo vedere che abbiamo ottenuto meno 2700 in rebound sulla forcella mentre l'ammortizzatore è solo meno 628 in realtà non è un solo meno 628 perché come sappiamo c'è di mezzo il leverage ratio che fa muovere in realtà l'asse posteriore con una velocità molto simile a quella della forcella ma so che hai sopperito a questo e hai fatto di più esattamente, abbiamo aggiunto una nuova funzionalità che è la funzionalità di interpolazione, leverage in cui è possibile indicare i punti dell'ammortizzatore a cui corrisponde una determinata escursione ruota quindi per esempio adesso per semplificare il tutto possiamo semplicemente supporre che la corsa totale sia 190 mm quindi in questo caso supponiamo una semplice linea dritta che andiamo a interpolare così mentre noi nelle varie analisi che abbiamo fatto in precedenza abbiamo inserito tutti i vari punti ogni 10 mm circa in modo tale da avere la curva il più verosimile possibile a questo punto è possibile utilizzare il menu wheel e automaticamente utilizzando il menu wheel per esempio avendo zoomato questo intervallo vediamo che i valori in rebound della forcella in questo intervallo è in meno 1.867 e quello dell'asse posteriore, non dell'ammortizzatore ma dell'asse posteriore di come si sta muovendo il ritorno è di meno 1.552 quindi sono molto più veritieri e vedere come lavorano e come ritorno entrambe le ruote esattamente, si può comprendere qual è il funzionamento reale della tua bici indipendentemente dal carro che sta utilizzando ottimo e abbiamo una serie di altri grafici interessanti molto facili da comprendere anche a colpo d'occhio che sono per esempio la position distribution in cui possiamo capire per quanto tempo le nostre sospensioni sono rimaste ad una certa percentuale di escursione e per esempio vediamo in verde la forcella e l'ammortizzatore invece in bianco dove sostanzialmente vediamo che indicativamente siamo nella zona del 20-25% indicativamente ossia valore anche confermato dal site dinamico un'altra funzionalità molto interessante che abbiamo sviluppato ultimamente è la comparison permette di eseguire una run 1 e successivamente andare a caricare una seconda run che possiamo chiamare per esempio run 2 che è questa in cui saremo in grado di vedere ogni singolo punto in cui traiamo vantaggio o traiamo svantaggio da un determinato setup quindi per esempio in questo caso possiamo vedere anche sulla mappa i pallini che ogni tanto si superano perché abbiamo la run 1 che è la run bianca che è questa linea mentre invece la run 2 è questa e questo non è nient'altro che il grafico che ci mostra il delta tempo quindi ci mostra di quanto siamo indietro possiamo vederlo per esempio qua che nella run 2 siamo indietro di meno 0,7 secondi qua poi guadagniamo leggermente qui siamo praticamente in pari fino ad arrivare alla fine in cui saremo in grado di guadagnare 0,8 secondi nell'ultima sezione questo è molto molto interessante anche in ottica gara soprattutto questo è molto interessante in ottica gara e ci permette anche di confrontare per esempio quali sono le curve delle sospensioni in un determinato punto della pista dove magari abbiamo perso magari l'ammazzatore con un setup diverso si è comportato in un altro modo un'ultima sezione molto interessante una penultima sezione molto interessante è questa che ci permette di avere un sommario ci dà tutti i vari dati statistici il tempo che abbiamo passato in movimento la distanza piuttosto che tutti i vari dati che si possono estrapolare anche dai vari grafici e da tutti i vari menu contestuali così come per esempio il tempo di frenata massimo che in questo caso è stato 3 secondi o 4,5 per il freno anteriore e un'ultima schermata è quella delle note estremamente interessante soprattutto per chi fa gare in questo modo noi siamo in grado di avere i dati generali i dati della run quindi chi è il pilota come il terreno dove è stato eseguito il test così come dati molto più specifici per quanto riguarda forcella e ammortizzatore in cui possiamo segnare tutti i vari click e tutte le varie pressioni utilizzate quindi magari se l'anno dopo ritorno dalla stessa pista posso ricontrollare che pressioni che setup avevo esattamente posso partire da questo setup come punto di partenza in modo tale da non dover perdere neanche troppo tempo a riscoprire tutto chiaro adesso proviamo a dare un'occhiata all'app possiamo vedere innanzitutto che lo schermo diventa la verde quando la connessione wireless tra il device e il nostro cellulare sarà stabilita a questo punto saremo in grado di scaricare tutte le run queste sono tutte quelle che abbiamo fatto questo weekend direi parecchie parecchie e possiamo vedere anche tutte le varie configurazioni a livello della batteria le run salvate andranno tutte qui in questa zona da qui siamo in grado di aprire una qualsiasi run e siamo in grado per esempio di scrollarla in maniera opportuna in modo tale da poter visualizzare al meglio tutti questi punti così come potremo cambiare per esempio tra millimetri percentuali tra sospensioni e ruote eccetera gli stessi menu che abbiamo visto nel software ovviamente l'app è un po' più scomoda da utilizzare però comunque può essere estremamente pratica nel caso in cui ci si trovi in un campo gara si tra una run nell'altra magari ci dice già quello che vogliamo sapere su determinate cose esatto qui possiamo vedere per esempio la mappa con il segmento che abbiamo selezionato evidenziato allo stesso modo è possibile vedere gli histogrammi come abbiamo visto nel software pc in cui è possibile visualizzare per esempio l'andamento della forcella l'andamento dell'ammortizzatore e compararla in modo tale da avere il miglior bilanciamento possibile così come per le note è possibile consultare tutte le varie note che abbiamo salvato contestualmente alla nostra run in modo tale da poterle ripescare successivamente l'applicazione viene particolarmente utile quando è necessario modificare rapidamente alcuni parametri alle sospensioni e per fare in modo che il device vada a scrivere tutti i parametri aggiornati all'interno del file è necessario andare ad agire su questo menu da questo menu noi stiamo comunicando direttamente con la nostra acquisition unit e siamo in grado di cambiare per esempio gli input quindi per esempio in questo caso non c'è sole ma sta piovendo possiamo dire rainy per esempio e andando in fondo possiamo cliccare salva in questo modo tutte le run che verranno salvate successivamente dal nostro dispositivo avranno all'interno tutta questa nuova configurazione con tutti questi dati ottimo ultime due cose molto importanti nella nuova versione ci sarà una sezione dedicata all'automatic tuning ovvero una sezione in grado di darci indicazioni dirette su quali parametri agire al fine di raggiungere il miglior setup possibile questa sezione sarà divisa per tre livelli beginner intermediate e advanced e qua potremo ricevere informazioni come aprire o chiudere il ritorno aumentare la pressione e queste cose qua un'altra cosa è che tutto questo sistema ha la calibrazione automatica ovvero non dobbiamo dargli il livello zero e il livello cento della corsa dei sensori ma ci basterà fare un salto e quindi avere entrambe le sospensioni a zero per far sì che il sistema calcolerà tutto automaticamente questa è una cosa molto molto apprezzata beh non posso che ringraziare Enrico e BYB Telemetry per questo weekend e per aver settato al meglio la mia bici quindi grazie mille davvero voi invece dovete assolutamente andare a vedere le loro pagine Instagram BYB Telemetry e il loro sito internet BYB Telemetry punto com è davvero davvero interessante lavorare con le telemetrie molto motivante e sicuramente vi aiuteranno a settare la vostra bici al meglio per me è tutto ci vediamo in un altro video ciao ragazzi ciao